duda o bername chi ha promesso in panchina lo scoprirete nel corso del video bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo video del fantagalcio questa seconda giornata del fantagalcio degli amici 2024-2025 c'è un like di supporto e se volete anche un'iscrizione gratis per i vostri danni nel razzurro ascioressi giocavamo contro puma square e iniziamo da loro perché anche loro hanno avuto delle montagne rosse ma anche un panchino a me si creavano un 343 come ne hanno in porta sei meno due quattro diviso a tre pallucci sei e mezzo munito sei cambiato sei e angelino cinque e mezzo centrocampo a quattro basa dice cinque munito quattro e mezzo rigore sbagliato due e mezzo cialanogu sette più tre dieci pellegrini cinque e mezzo rainers sei ma a centrocampo hanno lasciato lenni sman secondo panchino col sette più tre dieci e segno dal mino intaccò tra i touran sei dopo cinque e mezzo nosling cinque e mezzo e a posto di nosling potevano benissimo mettere isaxen primo panchino sei e mezzo più te nove e mezzo quanto hanno fatti i bischelli qua 62 e mezzo mi basta un altro 66 e noi 343 solido con il summer in porta sei più una sette mi vedo altre pavale sei e mezzo no con perez sei e mezzo ho messo posce cinque ha manito quattro e mezzo e quattro e mezzo ci sta sempre ragazzi panchina c'aveva 10 3 5 e mezzo secondo manchina la tendre e se ora sbincolare perché andata all'offe alberto moreno primo panchino avuto 5 e mezzo a manito scena sempre un voto o mezzo voto in più ma passiamo al centro campo e il dilemma è qui l'azzo dice cigno e mezzo roiler sei barella sei e mezzo Engelhardt non gioca e chi avrò messo il primo panchino ma andrei o andrei duda o il signore andreas Bernabè vi dico solo i voti vi dico solo il voto di Bernabè stai in mezzo ma non c'è il miracolo perché il primo panchino è andrei duda 5 a manito 4 e mezzo e poi l'attacco di spuntato ma sempre vigile Michaila sei e mezzo Kittker cinque e mezzo in patacassa stavate prendo 5 e mezzo ragazzi abbiamo fatto 64 e mezzo con Bernabè avremmo unito senza aiuti di Genreo e Alberto Moeno abbiamo fatto 66 e mezzo stavolta duda ci spedisce all'inferno del pari e niente questo video finisce qua siamo a quattro punti ragazzi a vedere il calendario Gommese prima scuola da 0 a 0 lo schilazzo 2 a 0 ma se essersi non circoncisi 2 a 2 Fccanto quattro 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 terzo Montesiti Lecce quattro e quattro tre lecce concisi 2 pareggi quattro due sesto un punto settimo Lazio in sera ultimo classifico fatemi sapere la vostra quest'ultimo commento per aver iniziato il fantacalcio come andata iscrivetevi al canale e da me è tutto nuovo alla prossima con un nuovo video per la 0 tutta per non che io scioglio ma io non per non per due ma vai bai bai Grazie.